e addio vogliamo leggere nel Vangelo di Marco sei dal versetto quattordici gloria Gesù così dice la scrittura il re Erode udì parlare di Gesù perché la sua fame si era sparsa e diceva Giovanni il Battista è risuscitato dai morti ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose altri invece dicevano Elia e altri è un profeta come quelli di una volta ma Erode udito ciò diceva è quel Giovanni che io ho fatto decapitare e lui che è risuscitato poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva fatto incatenare in prigione a causa di Erodiade moglie di Filippo suo fratello che egli Erode aveva sposato Giovanni infatti gli diceva non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello Erodiade perciò gli serbava rancore e bramava di farlo morire ma non poteva infatti Erode aveva soggezione di Giovanni sapendolo uomo giusto e santo e lo proteggeva dopo averlo udito era molto perplesso e lo ascoltava volentieri venne però il giorno opportuno quando Erode per il suo compleanno fece un convito ai granti della sua corte ai capitani ai principali della Galilea la figlia della stessa Erodiade essendo entrata ballò e piacque Erode e ai commensali e il re disse alla fanciulla chiedimi quello che vuoi e te lo darò e le giurò ti darò quel che mi chiederai fino alla metà del mio regno costei uscita domandò a sua madre che chiederò e quella le disse la testa di Giovanni il Battista ed è entrata subito frettolosamente dal re gli fece questa richiesta voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni il Battista il re ne fu grandemente rattristato ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di lui e quelli andò lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto e la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre i discepoli di Giovanni udita la cosa andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro ameno gloria a Dio fin qui la parola del Signore un brano forse dalla maggior parte molto conosciuto un brano che volete possiamo dire anche con una fine una fine triste triste perché si arriva a decapitare un uomo giusto un uomo santo un uomo che non aveva commesso alcun male stava facendo la volontà di Dio viene decapitato ma sappiamo una cosa e lo vedremo e Gesù lo dice nella parola che chiunque vuole perderà la sua vita per amore per causa di Gesù e del Vangelo la ritroverà Giovanni non è stato sconfitto dalla morte ma Giovanni ha adempiuto il mandato che Dio gli aveva affidato e credo che un giorno lo vedremo vedremo saremo insieme con Giovanni ma la cosa più bella è che saremo insieme a Gesù bene questo brano ci illustra di come Erode no questo governatore e stava ad ascoltare Giovanni era impressionato dalle parole di Giovanni da quello che Giovanni diceva e pensate un po' questo governatore Erode lo ascoltava ci dice la scrittura anche volentieri no l'abbiamo letto lo ascoltava volentieri eppure qualcuno poteva pensare che dato che Giovanni aveva che dire di Erode della sua famiglia e gli palesava le cose come stavano in modo proprio così in faccia gli diceva le cose non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello e quindi quello che lui diceva a Erode Erode in un certo senso non lo odiava non serbava rancore cosa invece Erodiade che invece faceva tutt'altro serbava questo rancore odiava Giovanni e abbiamo letto che cercò il momento opportuno di fare del male a Giovanni ma vedete sebbene Erode ascoltava Giovanni non prese mai una posizione giusta nei confronti dei Giovanni perché vedete è vero è vero che Erode cercava di proteggere Giovanni però poi vediamo la fine che gli fece fare la posizione di Erode nella società ha una certa autorità possiamo dire era governatore governò su gran parte della palestina inclusa anche la giudea Erode quindi rimase colpito però di questa testimonianza e al versetto 20 abbiamo letto infatti Erode aveva soggezione pensate un po di Giovanni sapendolo uomo giusto e santo e lo proteggeva dopo averlo udito era molto perplesso e lo ascoltava volentieri sembra che Erode venga attratto da questo uomo di Dio da questo servo del Signore venne colpito da questo uomo vedete Giovanni fa delle considerazioni fa delle considerazioni ma poi non va oltre si ferma lì lì soltanto ad ascoltare la voce di quest'uomo magari anche la testimonianza fedele di quest'uomo fedele al Signore al suo Dio ma non fa il passo in avanti non va oltre è vero forse a stima di Giovanni ma si ferma lì e forse può capitare anzi io direi che succede questo che chi magari è un po' è simpatizzante ancora non ha realizzato Gesù nella propria vita magari simpatizza con l'Evangelo magari dice ma quello che dite è vero magari dice io ho rispetto per questa per questo servo di Dio ma non va oltre Giovanni e Erode scusate si ferma soltanto sulla persona di Giovanni è importante fare delle considerazioni ed Erode stava iniziando bene ma poi devi trarre delle conclusioni e non lasciare quindi le cose in sospeso cosa colpì tanto Erode cosa portò ad Erode a proteggerlo a quest'uomo di Dio a Giovanni all'inizio penso che fu colpito dalla sua testimonianza dalla sua sicurezza la sicurezza che ha Giovanni in quello che dicevo in diceva la sua determinazione la sua convinzione aveva un coraggio non si fermava davanti a nulla ed è quello che noi come figli di Dio dobbiamo fare non dobbiamo fermarci davanti a nessuno uomo a nessun nemico perché noi dobbiamo servire il Signore fedelmente amèn questo siamo chiamati a fare e Giovanni così fece ascoltava Erode ma poi non agiva ascoltava le parole di Giovanni ma non le metteva poi in pratica sembra quel verso dove dice in Giacomo di non essere soltanto ascoltatori della parola di Dio ma anche facitori della sua parola ed è quello che anche noi dobbiamo fare dobbiamo prendere in considerazione e attuare questa parola forse è giunto il momento di andare davvero oltre Erode si focalizza sul messaggero ma poco sul messaggio e quindi Erode stava iniziando bene come se la parola che Giovanni stava predicando stava toccando il cuore di Erode lo stava sensibilizzando però si ferma lì perché accade qualcosa arrivò il giorno del suo compleanno e vi dico che il compleanno dei romani non è un compleanno dei cristiani perché nel compleanno i compleanni che svolgevano facevano i romani le feste che facevano parlavano di immoralità questa ragazzina perché era una ragazzina e lo intravediamo anche dal testo questa ragazzina il ballo che faceva era un ballo molto sensuale Erode fu attratto da questa ragazzina ecco perché ho voluto intitolare questa meditazione attrazioni pericolose e questo è valido per tutti sì anche per i figli di Dio facciamo attenzione a ciò che vediamo e a dove andiamo versetto 22 dice così la figlia della stessa Erodiade che si chiama questa sua figlia si chiama Salome ci sono anche fonti storiche che parlano di questo essendo entrata ballò e piacqua a Erode e ai commensali e il re disse alla fanciulla chiedimi quello che vuoi e te lo darò pensate un po' Erode come fu attratto da questa ragazzina al punto di dire chiedimi quello che ti darò e dice fin anche la metà del mio regno ma Erode ma che regno hai Erode è un governatore di una parte della palestina e della giudea ma cosa vuoi comandare alle volte alle volte succede questo tanto che si attratti da cose che magari desideriamo e vogliamo nostre che non sono magari neanche in linea con la prova di Dio ce ne usciamo con delle parolone che non sono di neanche di nostra competenza qui noi vediamo se all'inizio magari possiamo vedere le considerazioni di Erode qui vediamo l'imprudenza di Erode perché butta queste parole così chiedimi tutto quello che vorrai fin anche la metà del mio regno Erode azzarda si slancia Erode avventa mostra sconsideratezza agisce senza riflettere bene non dà peso alle parole che sta dicendo Erode rimase attratto da questa ragazzina e vi dico che era una ragazzina e lo vediamo anche dal testo perché quando Erode gli dice chiedimi tutto quello che vorrai fin anche la metà del mio regno la ragazzina cosa fa questa questa ragazzina cosa fa non è che subito dice ma sì dammi qualcosa no vada la sua mamma Erodeo gli chiede il permesso cosa gli posso chiedere e poi va di nuovo da Erode no non so Erode forse in quell'occasione dato che i compleanni romani erano veramente immorali e c'era tante immoralità forse aveva bevuto anche un po' quante parole si dicono esagerate la figlia di Erode va dalla madre si consiglia ed Erode io l'ho raffigurata come potrebbe essere come il nemico delle anime nostre il diavolo cerca in tutti i modi di influenzare la vita di quelle persone che ancora non conoscono Cristo magari anche ragazzini e quante ne sentiamo che purtroppo e me molti giovani e meno giovani sono attirati a tratti da droghe da alcol perché appunto il nemico li signoreggia Erode cosa vuole fare Erode qui mostra imprudenza ebbene Erode gli dice dammi la testa di giovanni il battista cosa ha portato ad essere imprudente a sbilanciarsi così in questo modo è vero sbilanciarsi senza pensarci perché magari attratti da qualcosa che non è sano comprometterà la propria vita e la porterà alla deriva Erode fu imprudente azzardò azzardò e questo lo portò a commettere un omicidio verso un uomo giusto cosa vediamo anche in Erode la non curanza perché guardate al versetto 26 al versetto 27 dice il re ne fu grandemente rattristato ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non vuole dirle di no e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli a testa di lui come prima apprezzava giovanni prima lo ascoltava volentieri giovanni e ora che è erodiade vuole chiudere la bocca di giovanni vuole fermare la predicazione della parola di dio vuole fermare la parola di dio decide di attuare questo piano perché il nemico delle anime nostre vuole fare questo vuole cercare in tutti i modi di fermare il piano di dio nella nostra vita vuole cercare di fermare l'opera che dio ha iniziato in noi ma colui che in noi è più forte ed è più potente di colui che è nel mondo amen chi custodisce la nostra vita e il signore gesù cercherà in tutti i modi di ostacolarci di fermare e cercherà il nemico delle anime nostre di fermare la parola di dio ma non potrà farlo non ci riuscirà perché dio è l'onnipotente e porterà avanti il suo piano nessuno può fermare la parola del signore e sebbene sebbene un uomo di dio morirà a causa dell'evangelo godrà l'eternità perché è rimasto fedele a dio ma la parola di dio continuerà ad andare avanti con o senza giovanni erode rimane perplezzo alla notizia questa richiesta di questa donna rimane spiazzato chissà forse non poteva mai immaginarsi no di una richiesta del genere cioè chiedimi magari ricchezze no la metà del mio regno quello che aveva chiedimi tutto quello che vuoi qui penserà erode e adesso come faccio a dire di no come posso rimangiarmi le parole cosa diranno di me a chi ho invitato a chi è vicino a me cosa diranno che figura faccio forse questo pensò erode erode poteva fare diversamente rifiutare quindi la proposta ma ma c'è di mezzo il suo ruolo da governatore c'è di mezzo la sua reputazione e diciamolo c'è di mezzo il proprio orgoglio il proprio io facciamo attenzione a questo sebbene magari non mettiamo a morte nessuno eh però potremmo essere di ostacolo per l'opera del signore a causa del nostro orgoglio del nostro io cosa fa erode acconsente nonostante questo lo lo rattristò compie però l'atto nonostante dice diceva ma Giovanni uomo giusto santo pensa alla sua reputazione quanti oggi ancora rimangono in certe posizioni a causa del loro orgoglio e non mettono in discussione non fanno un passo indietro e magari portano via quella gioia quella crescita quella vita che il signore vuole dare ricordiamo che noi un giorno personalmente personalmente compariremo davanti al signore il signore ci renderà conto delle nostre azioni delle nostre opere considera quindi la parola di Dio prendi atto dell'importanza che essa ha dobbiamo essere di quelli che ascoltano e la in pratica non essere neanche precipitoso e metto anche io in mezzo eh io parlo a voi ma è anche per me la parola ma pesa bene e pensa bene alle conseguenze che potranno arrivare il proprio io non abbia il sopravvento ma possiamo essere umili appoggiarci al signore chiedere signore io sono come un vaso nelle tue mani modellami perché ho bisogno ho bisogno di te per andare avanti per esserti fedele per piacerti sempre di più quindi da cosa o da chi sei attratto oggi può essere qualcuno qualcosa che è intorno a te o che cosa c'è dentro di te che può compromettere la tua vita spirituale come credente come figlio di Dio nato di nuovo deponi tutti i piedi di Gesù umiliamoci davanti alla potenta mano del signore e il signore per certo ci innalzerà al suo tempo questo è quello che il signore vuole dire alla nostra vita quindi di Erode Erode è un cattivo esempio ma noi vogliamo seguire il buon esempio di Giovanni il Battista amen costi quel che costi la mia vita appartiene al signore e voglio camminare fedelmente al signore amen preghiamo il signore alleluia alleluia